E le abbondanti nevicate seguite dai rialzi improvvisi della temperatura rendono molto instabile il manto nevoso con pericolo di valanghe. Per prevenire il pericolo in montagna è disponibile una nuova applicazione per controllare lo stato della neve in pista. Vediamola nel servizio di Matteo Parlato. Le montagne innevate sono una grande attrazione per i tanti che in modo sempre più differenziato le frequentano. E ogni anno c'è il conto dei travolti delle valanghe. Questo non perché la montagna sia cattiva ma perché ci si muove senza un'adeguata conoscenza dell'ambiente circostante. Ora c'è un'applicazione gratuita per aumentare la nostra competenza sulla neve e sul suo comportamento. L'app Matteo Mont è uno strumento fondamentale per fornire dati e informazioni per prevenire il rischio valanghe. Ricordiamo che il tasso di mortalità da chi viene travolto dalla valanghe è del 50% quindi è molto alto il rischio in questo senso. Quindi bisogna investire sulla prevenzione, ossia sulla consultazione dei bollettini, dei dati e informazioni relative al rischio valanghe. L'app Matteo Mont fornisce questi dati che sono alimentati dalla rete di monitoraggio giornaliera garantita su tutto il territorio montano e italiano del paese grazie alla collaborazione tra Corpo Forestale Drostate e Comando Truppe Alpine. Un'applicazione pensata per chi fa fuori pista come per lo sciatore della Domenica. Uno strumento per cercare di aumentare le possibilità di muoverci in sicurezza in questo ambiente prima che altri debbano cercare noi.